Ieri sera hanno spento le luci. Certo, le ho spente io personalmente. Anche la lampada, quella della scrivania, che aveva la spina infilata là. Dove? Ah, eccola qui. Posso? Certo. Ci sono altre lampade come questa? No. Qualche altro apparecchio, qualche stufetta elettrica? Senta, le ricordo che in una cantina per vini non si usano stufe. Problemi col personale? Problemi? Sì, il solito genere di noie, divergenze di opinioni. Ha licenziato qualcuno da poco? No. Quando è che ha aumentato la sua assicurazione? Adesso mi ascolti, Barnaby. Spero non voglia... Su, non si arrabbi. Certo, lei non comprerà vino senza fare domande. Da quale vigna proviene, l'annata, chi è lo spedizioniere. Anch'io devo fare domande nel mio lavoro. È stato circa cinque anni fa l'ultimo aumento della mia polizza. Può controllare. Grazie. Lo farò. Ho paura di non esserle stato di molto aiuto. Al contrario, signor Rautrec. Al contrario. Interessante, no? Um. Um. Grazie.